Abbiamo al telefono l'onorevole Nicola Latore, stratega politico. Buongiorno onorevole, lei è reduce da un viaggio a Madrid. Posso chiederle chi ha pagato il viaggio? L'ho pagato io. Ci stava dicendo che l'ha pagato lei con i suoi soldi? L'ho pagato io, ho volato con la Welling, che è la compagnia low cost dell'Iberia e poi se è necessario... No, 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 naturalmente le chiediamo, però mi sembra giusto. Comunque è stata un'ottima occasione perché il viaggio è costato 275 euro. Certo, quindi comunque non capita sempre che l'Inter... Non sapevo che lei fosse interista. Sono interista per ragioni anche familiari, pensi che il mio papà è il presidente dell'Inter Club del mio paese. Certo, quindi è una cosa di provata fede, insomma. Senta, a proposito di compensi miliardari, un'icona della sinistra, Rai, oggi leggiamo sui giornali, questa mattina leggiamo sui giornali, insomma, riportato, che forse ci ripensa, che forse... parliamo ovviamente di Michele Santoro, e che forse rimane in Rai, insomma, la situazione non è molto chiara. Personalmente la mia sensazione è che Masi voglia chiudere questa cosa. Però, una domanda che voglio farle è un'altra. Voi, diciamo, in Rai siete rappresentati da un tipo di comunicazione che poi con lei, con D'Alema, con Bersani hanno molto poco a che fare, perché io ho la sensazione che mentre voi siate comunque un filone riformista della politica ragionevole, con persone posate, eccetera, la sinistra della Rai sia una Rai che si identifica molto con i toni urlati, con l'anti-berlusconismo di maniera, eccetera. C'è qualcosa che in questi anni non ha funzionato, forse anche nella scelta appunto dei vostri interlocutori, o sbaglio? Cosa pensa? Allora, innanzitutto, quanto a Michele Santoro, io non condivido gran parte delle sue opinioni politiche, non condivido molti dei giudizi, per esempio l'ultimo che ha dato sul partito democratico, che sarebbe un partito di cialtroni, però considero Michele Santoro un grande professionista e ritengo che la Rai farebbe bene a tenerselo caro. Un professionista che in nessuna televisione del mondo lavorerebbe, scusi, eh. Detto questo! Secondo lei David Letterman va in onda con quello che ha fatto lui l'altra sera, non esiste, cioè guardi che non... No, quello che ha detto lui l'altra sera io per fortuna mia non l'ho sentito, non l'ho vista. Sì, però secondo lei... No, 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 un momento. In un altro paese europeo, in Inghilterra, con la Merkel, con le social devocazioni europee, scusi, non hanno prodotto Santoro, hanno prodotto ben altro tipo di giornalismo, molto, anche di sinistra, ma molto super partes. Uno come Santoro in Germania, in Inghilterra, in Francia, la sinistra parlamentare non lo autorizzerebbe mai, cioè alla fine cosa fate? La sponda degli estremisti, cioè allora c'è qualcosa che non va in voi o sbaglio? Guardi, diciamoci la verità, c'è qualcosa che non va nel nostro paese, perché è vero che queste manifestazioni così rumorose di antiperlusconismo in altre realtà potrebbero essere incomprensibili, ma anche il clamoroso conflitto di interessi che regola, che regna nel nostro paese, in altre realtà non sarebbe possibile. C'è insomma, così come una serie di meccanismi e di rapporti perversi tra la politica, e la RAI, in altre realtà non sarebbero possibili. Quindi lei dice giustifichiamo la parzialità e la non obiettività di alcuni giornalisti RAI, di orientamento di centrosinistra e anche di centrodestra, col fatto che c'è il conflitto di interessi. No, 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 non dico questo, non dico questo, io ho detto un'altra cosa, non mi faccia dire quello che non ho detto, io penso che sia complessivamente anomalo il sistema della comunicazione, perché da un lato c'è un clamoroso conflitto di interessi, sono invitabili a Berlusconi, ma per come ha funzionato in questi anni il rapporto tra la politica e la RAI, la RAI è occupata prepotentemente dai partiti, dalla politica e lascia poco spazio ad una informazione di un certo tipo, da un lato c'è questo problema, dall'altro il riflesso di questa situazione è che occorre esasperare i toni di una presenza televisiva, addirittura paradossalmente per poter essere preservati. Ora, in questo quadro, prego. No, ma scusi, Santoro nei paesi normali è impensabile, c'è una figura del genere, durerebbe un minuto, lì il giornalismo è concepito come un servizio assolutamente alla democrazia, all'obiettività e questa è una figura che sta solo in Italia, è una figura anomala italiana, lo giustifichiamo perché c'è Berlusconi o il giornalismo dovrebbe seguire altri criteri, secondo lei? Ma lei che è un grande maestro della comunicazione ci può spiegare che ogni manifestazione, ogni espressione non può essere mai avulsa da come funziona un sistema, non esiste una manifestazione o un tipo di giornalismo che possa essere, come dire, valutato in maniera asettica rispetto a quello che è il sistema. Diciamo la verità, c'è qualcosa che non funziona, anzi c'è molto che non funziona nel sistema della comunicazione e in questo quadro accade che organi di informazione che dovrebbero essere, telegiornali che informano dando un quadro complessivo della pluralità delle opinioni, che cercano di informare più puntualmente sui fatti, che cercano anche di rispettare una certa gerarchia delle notizie, non lo fanno e accade anche che c'è spazio per alcune manifestazioni di radicalismo estremo che, diciamo la verità, nel passato sono state molto funzionali, Berlusconi deve ringraziare anche molte di queste manifestazioni di tipo anti-berlusconiano che gli hanno consentito di fare la vittima e di fare apparire il sistema della comunicazione nel nostro paese come un sistema pluralista quando questo in realtà non è così.